Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale, sul canale della Eli. Ogni tanto mi presento, perché magari c'è qualcuno che è arrivato nuovo e non ha visto i primi video di presentazione molto succintamente. Io sono Eli, Elena, ho 54 anni, sposata con tre figli di quasi 26, quasi 25, quasi 20. E sono una creativa, una creativa, mi definisco una creativa da sempre, una creativa tutto tondo. Mi piace lavorare a maglia, lavorare all'uncinetto, cucire, ricamare, mi piace la skin care, mi piacciono i libri, mi piace tantissimo leggere, mi piace la cucina, mi piace cucinare e mi piacciono i profumi e chissà quante altre cose mi piaceranno da qui ai prossimi anni. Bene, detta questa presentazione per chi ancora non mi conosce, oggi avevo poco tempo ma volevo farvi vedere il mio primo acquisto in assoluto sul sito di Avon. E poi avrò da chiedervi un consiglio per chi già acquista e per chi invece ha anche un referente. Io facendo l'acquisto sul sito di Avon ho poi scelto una referente che è della mia zona che però non conosco, quindi non so bene come funziona ma poi vi chiederò. Io conosco Avon da sempre come presumo tutte le persone di questo mondo perché Avon quando io ero piccolina appunto con la sua referente veniva a casa di mia mamma, adesso non so se era una sua amica o se era qualcuno che le era stato consigliato e mia mamma comprava quei pochissimi pochissimi trucchi che metteva. Ombretto verde, ombretto azzurro a tutta palpebra, un po' di farda, niente fondotinta e forse un rossetto quando io ho fatto la cresima, la comunione e qualche altra festa. Per il resto non si è mai truccata, non ha mai messo profumi. Però mi ricordo che era un evento piacevole e probabilmente era anche un modo così per incontrarsi con altre amiche, per fare una chiacchierata, mia mamma non ha mai lavorato, ha sempre fatto la casalinga ed era un modo un po' per evadere dalla routine quotidiana delle faccende domestiche e del seguire la casa e la famiglia. Sono in una posizione diversa perché nella solita posizione c'è una luce pazzesca, già così sono abbastanza accaldata, perché in questa camera fa veramente caldo, ci saranno 25 gradi. però ho cambiato la posizione, altrimenti lì ero baciata dal sole ed ero tutta fluorescente. E vi stavo dicendo, quindi conosco Avon da sempre, da quando sono piccolina, non ho mai comprato nulla perché non ho mai avuto occasione di conoscere qui a Lecco delle rappresentanti Avon, anzi se c'è qualche rappresentante si faccia conoscere per piacere, perché avrei davvero piacere di capire come funziona adesso la gestione degli ordini, se c'è ancora la riunione tipica come una volta, insomma non so, non so bene come funziona. e conosco Avon perché ho scoperto, dopo che avevo aperto il canale da qualche mese, da Debbie My Life, Debbie questo ordine e tutti gli ordini di Avon e dei profumi è colpa tua e io ti ringrazio perché ho scoperto dei profumi a dei prezzi veramente, veramente stupidi, perché su un otino, devo essere sincera, si trovano a dei prezzi quasi impossibili, anche al di sotto dei 5€ e sono tutti profumi per quello che riguarda i profumi, perché io sono gli unici prodotti che ho provato al momento, davvero, davvero molto molto buoni, persistenti, favolosi, a me piacciono tantissimo, sono profumi da tutti i giorni, ci sono profumi che si possono mettere magari anche soltanto alla sera per una cena, io li uso, ne uso tanti, lo sapete e mi piacciono tutti, ma questo ordine è stato fatto proprio perché guardando i tanti video di Debbie, dopo vi lascio ovviamente nell'info box tutte le informazioni sia del canale di Debbie, ciao Debbie, e sia degli articoli che ho comprato sul sito, sono rimasta incuriosita, ho detto vabbè, provo qualche articolo, ho comprato qualche articolo di tutti i tipi, skin care, trucchi e profumi, e oggi ve li mostro così, molto liberamente, molto velocemente, perché non li ho ancora provati, ma così volevo fare una chiacchierata con voi. Partiamo dal primo articolo, questo l'ho sentito, vabbè, ho provato questo profumatore per ambiente che si chiama Time for Relactions, Cedarwood Basil Basilico Limone, quindi legno di cedro, andiamo con la traduzione simultanea, basilico, limone, allora questo l'ho aperto, l'ho aperto perché ero molto curiosa di sapere il profumo, ma al momento non è che io abbia sentito molto, probabilmente i bastoncini, chiaramente cioè deve essere in uso, i bastoncini devono essere impregnati, quindi mi sembra un profumo davvero molto molto delicato, carinissima la confezione, proprio così da arredamento, e questo l'ho preso da mettere in questa camera perché altrimenti profuma toppo. Vediamo se non ci mettiamo sei mesi, altrimenti stoppo, con una forbicina che ho qua. Ragazzi, sono riuscita ad aprire, ho tolto il tappo, la profumazione non è intensissima così, fresca, si sente sicuramente il legno di cedo, ma si sente anche il basilico, ho sporcato col mio rossetto il beccuccio, vabbè, proveremo, diciamo, ho voluto provare questa fragranza. Ho fatto questo ordine perché c'erano degli sconti particolari, l'ho fatto l'ordine circa due o tre settimane fa, ma ho avuto poi un inghippo sulla spedizione. Allora, ho fatto due ordini in due momenti diversi, perché poi mi è arrivato un codice sconto da poter usare, quindi mi sono fatta tentare un'altra volta. Il primo ordine è arrivato veramente abbastanza veloce in 3-4 giorni lavorativi, il secondo si è bloccato in sede GLS perché era arrivato rotto, cioè il bagno schiuma aveva perso del liquido, del prodotto, e molto correttamente GLS l'ha rimandato alla casa madre di Avon, da dove spediscono, e poi Avon me l'ha rimandato. Servizio clienti veramente veloce, super cortese, mi sono trovata benissimo, ho aspettato qualche giorno in più, ma vabbè, insomma, non fa niente. Poi, 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 ho acquistato questo bagno schiuma da un litro. Sì, lo so di bagno schiuma ne ho tanti, ma siamo anche in tanti, ci laviamo sempre, e i bagno schiuma vanno via come se fosse acqua, no? Ho sentito parlare davvero in tantissimi canali, da tantissime persone benissimo, di bagno schiuma di Avon, e mi sono fatta tentare anch'io. Questa è la profumazione White Patch e Vanilla Orchide Shant, quindi pesca bianca e vaniglia e orchidea. Ma, dai, diamo la buona per così. Mmm. Oh mamma, il profumo è davvero godurioso e fresco, si sente tantissimo, uè, sto diventando nera, si vede tantissimo, si vede, si sente tantissimo la pesca, ma poi, ovviamente, di tutti questi prodotti, vi saprò dire qualcosina quando li avrò provati. Oggi è proprio uno spacchettamento. Poi, 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 ho preso due profumini. Uno è, leggetelo voi, dai, perché se lo leggo io, poi, qualcuno si spaventa. Vedete che divento nera, divento... Cioè, questa, questo cambiamento di colore nell'atmosfera, va bene, va bene. Per save... E non vi faccio neanche la recensione, sapete che le mie non sono mai recensioni, sono racconti di sensazioni. Come dicono le sorelle Martinos, mi è piaciuto tantissimo la narratrice di profumi. Questa cosa mi piace particolarmente. Grazie, sorelle Martinos, sempre splendide e gentili. Mi piace questa cosa, la narratrice di profumi, che non vuol dire che io sia esperta, anzi, non lo sono per niente. Allora, questo profumino, veloce, veloce, mi sono segnata le note. Allora, su Fragrantica ho trovato 75.000 note. Su un sito di Avon ce ne sono proprio poche. Ci sono Fresia, Brezza Marina e Ambra. Mentre su Fragrantica, che lo descrive come un profumo floreale acquatico da donna, uscito nel 2011, le note sono Limone di Amalfi, Melone, Fresia, Acqua di Mare, Caprifoglio, Albicocca, Muschio, Sandalo e Ambra. Adesso io me lo spruzzo e vi dico se mi piace, che è la cosa principale. Ma me lo sono già spruzzato. Mmm! Notte acquatiche a bomba. Caprifoglio. Al momento, la parte ambrata non la sento, ma è un profumo molto molto fresco, perfetto per la primavera, e io queste fragranze le adoro tutte, ma poi ci riserveremo di raccontarvelo in un altro momento. Allora che, se sarà mia, Tambè non si chiude tanto bene, anche qua traduzione simultanea dal dialetto lecchese, mi piace molto, un 50 ml, giusto? Non sto dicendo un'eresia. Esatto. Mmm! Sto guardando perché dice anche che non è stato chiaramente testato sugli animali. Questa cosa ci piace, ma ormai spero che nessuno testi più nulla sugli animali. E poi mi sono fatta tentare da Avon Soft Mask, perché Debbie ne parlava benissimo, diceva che era uno dei suoi profumi preferiti, e almeno penso sia questo, perché ho visto che ce ne sono di varie tipologie, di varie, sempre Soft Mask, ma ha il caramello, che anche quello mi tenta. Flaconcino molto carino, molto primaverile. Ecco, secondo me questi profumi di Avon sono anche adatti per fare un regalo, perché non sono con delle note particolari, e se ci sono delle amiche o degli amici che amano questa tipologia di profumo, secondo me per i prezzi che hanno si possono tranquillamente regalare, eventualmente se poi chi lo riceve proprio diciamo non lo gradisce lo può spruzzare nell'ambiente, perché sono davvero dei profumi molto fioriti, freschi, delicati, ma delicati come profumo, ma sono molto persistenti, perché ce ne sono alcuni che durano veramente tutta la giornata. Sono delle bombe. Io per tutta sincerità vi dico che su Notino li trovo a dei prezzi sciocchi, veramente sciocchi. Se siete fortunati quando poi c'è la spedizione gratuita, andate a mille. Mentre Soft Masca dice note di rosa, gelsomino e ilangilang, quindi tre note molto molto basiche. Oh mamma, qui invece molto persistente. Sembra quasi un profumo vintage, un profumo di signora per bene con la pelliccia, con la sciarpa, con i guanti di pelle, con la borsettina a mano. Come me. Identica a me. Oh mamma, è proprio buono Debbie, avevi ragione. Se è questo, quello che tu hai consigliato adesso francamente, non mi ricordo, ma mi pare di sì, perché ho fatto l'ordine quella sera che ho visto il tuo video. Costò una bomba di profumo. Molto buono. Va bene. Questi li ho pagati più o meno sui 12 euro, 13 euro. C'era un'offerta che con due profumi, c'erano due profumi, potevi scegliere due profumi e spendevi 26 euro. Quindi questi due li ho presi insieme. Eccoli qua. Poi, 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 questo non ve lo apro perché ho già in uso un contorno occhi, due contorni occhi, uno per la mattina e uno che uso alla sera che mi piacciono tantissimo e saranno nel video prossimo o comunque nei prossimi perché ho un po' di video da fare del ti ho provato, ti ho amato. Mi pare di averlo chiamato così. Questo è una confezione di contorno occhi poi se riesco vi metto la fotografia dove da una parte c'è un gel che se non ricordo male va messo sulle palpebre e dall'altra parte c'è una crema che va messa sotto l'occhio. Ne ho sentito parlare benissimo sia da Debbie ma anche da tantissime altre recensioni sul tubo o comunque sul sito di Avon c'erano delle persone che dicevano che da più di dieci anni usavano questo prodotto e si vedeva comunque il risultato ed era un prodotto ottimo quindi ho deciso di provarlo anche questo era scontato c'erano tanti sconti quando in quel momento ho fatto l'ordine. Poi cosa ho preso? Ho preso un acqua micellare adesso vi dico qual è perché qua è tutto scritto in inglese e se è scritto in italiano non vedo un cavolo acqua micellare per togliere tutto il trucco possibile e immaginabile questa è quella matte no detergente soft nutra effect maxi formato se le casta che non ha profumo non ha alcol non ha solfati ecco l'inglese sto diventando bravina è un bottigliozzo da 400 ml anche questa era scontata e anche questa non è testata sugli animali poi ho preso un'altra acqua micellare che è quella matte che è indicata per le pelli miste grasse sapete che la mia è una pelle mista grassa e quindi ho voluto con gli estratti di riso vediamo qua cosa dice ve la lascio qui in superimpressione acqua micellare matte sino nutra e massi formato le esce non c'è nessun'altra descrizione in più però appunto dice che dovrebbe essere ci sono dei cetrioli ci saranno dei cetrioli non lo so vabbè questo poi vi dirò perché sto finendo degli acqua micellare molto buone che ho trovato su Notino perché io su Notino ne prendo molte quando ci sono le spedizioni gratuite ne approfitto poi ho preso e anche questo forse l'aveva consigliato la Debbie se non mi ricordo male allora spostiamo che se no non vi do che cosa ho comprato speriamo che nel video poi sti colori qua va bene allora ho preso poi questo balsamo labbra mi scuso per questo colore rosato ma qui è così e giù da basso c'è Mattia che sta guardando la televisione perché oggi non sta bene eccolo qua i balsami labbra sono comunque le tipologie di rossetti chiamiamoli rossetti anche se non sono rossetti veri e propri che mi piacciono di più perché colorano e comunque ammorbidiscono molto le labbra io quest'inverno tra l'altro ho avuto le labbra screpolatissime nonostante gli scrub nonostante le maschere che mettessi prima di andare a letto non mi sembrava che poi fosse un inverno così freddo questo è un colore molto bello di quelli che piace a me qui lo vedete è un po' aranciato ma si vede si ma sulle labbra è un colore molto molto bello è anche profumato e questo è il colore che ho scelto io colore non c'è scritto lo trovo da qualche parte vediamo se sull'ordine vediamo vediamo color nude ecco che sono i miei colori poi ho preso questo toner mi pare che sia un toner tonico opacizzante al carbone skin control e questo l'ho preso da utilizzare esclusivamente alla mattina sotto la base del trucco sempre sempre per il mio problema di pelle lucida e pelle semigrassa questo è anche un formato da 100 ml quindi direi che tra un po' vi racconterò com'è poi ho preso questo mascara volumizzante per sopracciglia nel tono del marrone più o meno simile alle mie sopracciglia con queste setole molto fitte piccolino e poi lo proveremo poi 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 ho preso un mascara per le ciglia era da tantissimo che lo volevo prendere oh che carino il pack eccolo qua però non nero ma un marrone molto scuro questi sono gli scovolini non so se si chiamano scovolini comunque sono la tipologia di setole che mi piace di più perché sono piccolini riescono ad arrivare fino alla alla profondità dell'occhio che io poi sono mezza accecata se no mi spalmo il mascara da tutte le parti è in un colore marrone che mi piace molto marrone marrone nero ma non è proprio nero nero c'era proprio scritto brown black e vi dirò questo lo metterò subito subito in uso e si chiama legendary length mascara poi questo crema doccia al monoi e cocco e tiare che è fluorescente un po' però poi vabbè tanto quando ci si ci si si acqua viene via mamma che profumo ragazzi se ci fosse un profumo così buonissimo e anche questo appaio e scompaio adesso sono apparsa e poi come ultimo prodotto mi pare che la scatola è vuota ho comprato questo siero fondotinta radiant finish spf 30 eccolo qua allora io sono stata abbastanza fortunata perché diciamo ho preso ho indovinato il colore il colore è questo spalmato è molto simile alla mia pelle vedete è molto luminoso mamma mia che brutta roba va anche la lampa dai ma è così vabbè però sul sito non si capivano bene i colori erano proprio piccolino quindi io volevo appunto chiedere se tra di voi che mi ascoltate o se conoscete qualche è suonato via il sole e la luce è tornata normale vabbè se c'è tra di voi qualche rappresentante avon come funziona se ci sono ancora se c'è la possibilità di vedere dal vero soprattutto che ne so fondotinta rossetti matite per gli occhi matite per le labbra perché ecco comprare questi prodotti così su internet senza averli visti prima mi piacerebbe capire il colore io sono stata fortunata e esattamente del colore perfetto alla mia pelle bello luminoso mi piace anche perché ultimamente piuttosto che il fondotinta sto utilizzando molto le creme colorate molto leggere una sparmata di cipria un po' di terra o un po' di blush e sono perfetta per tutta la giornata e il trucco rimane davvero molto molto naturale poi in omaggio siccome erano due ordini mi hanno mandato due piccoli sample di rossettini ovviamente sempre dello stesso colore da provare il colore è il mio perché è il mio guardate che bello sono molto molto cremosi e li proverò con molto molto piacere e poi due campioncini di 4-way 4-way glamour avon che dovrebbe essere una delle nuove fragranze che sono uscite queste non le ho ancora provate le testerò e poi vediamo se comprare anche il flacone in taglia normale bene niente io vi ho fatto vedere tutto il mio spacchettamento vi metterò poi nel infobox tutti i link se vi fa piacere degli articoli che ho acquistato se poi mi rispondete gentilmente alla domanda che ho posto prima per capire come funziona un po' questa cosa io ho scelto questa rappresentante che però non conosco che è vicino a casa mia qui nelle chiese e vediamo se a lei non ho scritto e non ho chiesto nulla però magari tra di voi c'è qualcuno che lo fa come lavoro e mi sa dare qualche indicazione bene cari amici e cari amiche io vi saluto cerco di montare questo video così ve lo metto spero che non vi abbia disturbato troppo la mia apparizione e sparizione perché comunque i prodotti si dovrebbero essere visti tutti bene ma appunto in questa sala in questa camera c'è questo problema quando c'è tanta luce è bello perché c'è tanta luce e c'è una bellissima temperatura forse anche troppo ma ci sono questi sbalzi di toni e di colori io vi abbraccio vi saluto vi auguro una buona continuazione di settimana e ci vediamo al prossimo video ah dimenticavo dimenticavo grazie per aver risposto al mio sondaggio perché l'ho messo ma non è che ero molto capace di capire bene come funzionasse ho acquistato questo discovery set di Federico Cantelli che è il naso più giovane italiano e mi sono innamorata li sto provando uno per ogni giorno ma anche di più alla sera me ne metto sono dei profumi favolosi delle fragranze meravigliose quindi mi do il tempo di provarli di capire quali sono i miei preferiti ma sarà davvero molto molto dura perché ognuno ha una fragranza diversa e sono tutti tutti buonissimi vi dico solo che questo che è il liquidis mi ha fatto ritornare bambina io me lo sono spruzzato anzi neanche spruzzato perché è ancora un campioncino alla vecchia maniera e mi sono ritrovata al bar dell'oratorio con le rotelle ribo con le gli anicini le caramelle di anice ed è stato amore a prima vista quindi questo io sono già sicura che lo prenderò perché comunque hanno dei prezzi ragionevoli sono dei profumi veramente buonissimi ma hanno dei prezzi anche se sono di nicchie artigianali o chiamateli come volete voi ecco ci si può fare un pensierino se si vuole farsi un regalo farsi un regalo perché poi gli altri si lamentano che io mando link a destra e a sinistra ma poi nessuno mi regala mai quello che io chiedo e quindi mi faccio i regali da sola vi risaluto vi abbraccio e vi aspetto nel prossimo video ciao ciao